Prima della partita col Parma avevi detto che ti sarebbe piaciuto prendere lo scalpo a una grande del calcio italiano, domani arriva il Palermo e senti lo stesso appetito? La partita mi è mangiando, stiamo attraversando un buon momento, sappiamo che affrontiamo una delle squadre più forti del campionato ma noi dobbiamo continuare su questa strada, poi vedremo che partita verrà fuori, dovremo giocare con rispetto perché il Palermo è una squadra che va assolutamente rispettata ma senza timore, cercando di giocare, di pungere, di fare le cose che abbiamo fatto in queste ultime partite, grande attenzione, grande concentrazione, però poi quando c'è da far male proporsi e non solo aspettare. L'entalla va meglio come gruppo ma escono anche alcune individualità tra cui Gatto, un giocatore che ha evoluto fortemente a gennaio. Lo spirito di gruppo fa la differenza, nel senso che la squadra sicuramente dopo un periodo un po' così si è capito, si è ritrovata, si è calata in quello che poi è il nostro momento, quindi c'è da lottare tutti, ogni pallone diventa il pallone della vita, della salvezza, della partita e su questo sicuramente abbiamo fatto un passo avanti. Poi è normale che quando si fanno buone prestazioni, ho sempre detto, prima di tutto viene noi, poi è normale che quando si fa bene, quando si fanno partite importanti, quando si vince, viene fuori anche l'individualità del gol, dell'assist, della parata e a turno sicuramente questi ragazzi, come è successo alla Mantia col Parma o al Gatto con la Cremonese, si ritaglieranno il loro spazio, però prima di tutto viene chiaramente il pensare insieme e non a livello individuale. Servirà una mano anche dal pubblico giovedì sera, si aspetta, arriva anche il Palermo, quindi si aspetta tanto pubblico al Comunale? Sappiamo insomma che noi qui al Comunale il pubblico è più o meno lo stesso, chiaro che l'atmosfera può essere diversa, quello sì, avremo bisogno sicuramente della spinta del nostro pubblico perché poi insomma sappiamo che giocare qui, noi ci alleniamo sempre qua e sembra quasi a volte di non farla neanche la partita e quindi magari anche la spinta del pubblico diventa fondamentale sicuramente giovedì ma sempre, sempre ne abbiamo bisogno, ma maggior ragione giovedì.